Professor Petretti, il 2020 è stato un anno difficile per gli esseri umani, però potrebbe essere stato un buon anno per gli animali selvatici, soprattutto in Italia, anche perché venivamo da un lungo periodo di espansione degli animali selvatici italiani. È così? È stato un buon anno quello del Covid-19 per loro? Sicuramente gli animali si sono resi conto che qualcosa era cambiato, cioè questo fatto che gli uomini avessero fatto un passo indietro, addirittura chiudendosi dentro casa per tre mesi, l'hanno percepito. Perché poi tra l'altro questo fenomeno è avvenuto nel momento in cui i mammiferi fanno la tana e si riproducono e gli uccelli fanno il nido e depongono le uova. Passiamo ora al re degli animali italiani e anche al re dei conflitti italiani, cioè il lupo. Sappiamo che in questo periodo è in espansione naturale, però le cito uno studio della Sapienza del Parco Nazionale dell'Apenino Tosco e Emiliano che ha studiato sette branchi di lupi, 39 animali in totale. Ha trovato il 70% di ibridi, cioè di ibridazione fra lupo e cane, cani vaganti, cani domestici lasciati liberi. Quali sono le cause di questo fenomeno, i problemi che può creare e le possibili soluzioni? Anzitutto questo nasce dal fatto che c'è una strettissima relazione fra il lupo e il cane. Il cane deriva dal lupo, quindi dal punto di vista genetico c'è una compatibilità talmente forte che gli ibridi che nascono dall'accoppiamento fra un cane e un lupo sono ibridi addirittura fertili, quindi si prosegue con questa linea. I problemi sono dovuti al fatto che ci sono pochi lupi in alcune situazioni e molti cani randaggi. Per cui un lupo maschio in cerca di compagnia può trovare una femmina di cane randaggia in calore e a quel punto nasce una coppia multietnica, chiamiamola così, e si comporterà come una coppia di lupi perché a questo punto padre e madre gestiranno questa cucciolata come se fosse una cucciolata di lupi, formeranno un branco, con i giovani dell'anno successivo il branco si incrementerà e a questo punto noi avremo una popolazione mista con degli esemplari ibridi che presenteranno delle caratteristiche morfologiche, che sono espressioni naturalmente del genotipo, che saranno più o meno evidenti, certe volte anche per uno specialista come noi dire che quello è un cane oppure un ibrido oppure un lupo diventa molto difficile. L'altro grande mammifero che presenta delle situazioni bellissime ma anche particolari e problematiche è l'orso. Noi abbiamo due popolazioni essenzialmente, quello dell'orso marsicano in Abruzzo e quello dell'orso normale, dell'orso europeo nelle Alpi, sull'arco alpino. Sono anche due approcci diversi delle varie regioni, delle varie comunità e problematiche diverse locali. Ci puoi disegnare un po' questa mappa dell'orso italiano? Allora, l'orso marsicano è un orso piccolo, un orso prevalentemente erbivoro, ama il miele, la frutta e le erbe selvatiche. È un animale prolifico, arriva a fare anche quattro cuccioli, vive da secoli con gli uomini, con pastori, contadini, boscaioli, cacciatori, turisti. Quindi vive in un mondo frequentato dagli uomini. Ha imparato a essere timido, a non avere troppa paura, a non essere invadente, a essere comunque un elemento del paesaggio e gli uomini lo tollerano. Sanno che l'orso comunque fa parte della loro vita, fa parte del loro mondo e ha anche una grande attrazione turistica per il parco d'Abruzzo e dintorni. Sulle Alpi l'orso è stato portato, dopo una quasi totale estinzione, con orsi provenienti dalla Slovenia. Animali più grandi, con un'alimentazione anche in buona parte carnivora, animali comunque abituati a frequentare un ambiente più aspro, più forte, dove sono addirittura cacciati in Slovenia e in questi territori. Quindi sono arrivati da noi un pochino diversi e forse meno disponibili a essere osservati dagli uomini in tranquillità. Per questo vanno educate le popolazioni, vanno costruiti anche dei rapporti con la popolazione locale, tale per cui questo orso venga considerato un arricchimento dell'ambiente e non una minaccia. L'orso non aggredisce l'uomo se non ha motivo, l'orso si allontana, l'orso se ha i cuccioli, una femmina con i cuccioli, bisogna girare alla larga. Se abbiamo un cane al guinzaglio stiamo lontani, perché il cane rappresenta un nemico per i cuccioli di orso e la mamma lo sa, per cui in qualche modo diventa ancora più aggressiva. Norme di comportamento che vanno spiegate, insegnate a una popolazione che non ha la stessa abitudine della popolazione appenninica a convivere con questi animali. Adesso sfatiamo un altro mito, quello dei serpenti, della pericolosità dei serpenti, in realtà quelli italiani sono poco pericolosi, ce lo spiega il professor Petretti in questo video che lanciamo. Questo è un biacco, Coluber viridiflavus, uno dei nostri serpenti più comuni, più agili, più aggressivi, innocuo, però morde spesso e volentieri e si difende anche emanando una secrezione molto puzzolente. Il biacco è solo una delle tante specie di serpenti innocui presenti in Italia, ci sono poi il cervone, che è un colubro molto grande, arriva anche a due metri di lunghezza e vive in genere in mezzo ai cespugli, poi c'è il saettone e poi ci sono le bisce e naturalmente ci sono anche le vipere, in Italia ci sono addirittura quattro specie di vipere, in tutte le regioni, tranne la Sardegna, dalla montagna fino al mare. Si riconoscono perché sono un genere piuttosto piccole, tozze, si muovono lentamente, poi se uno va molto vicino riesce a vedere anche la forma della pupilla che è verticale e non tonda, ma diciamo che le vipere tendono soprattutto ad allontanarsi con discrezione, non vogliono attaccare l'uomo. E allora stiamo attenti quando mettiamo le mani per terra per prendere magari gli asparagi o i funghi, vediamo cosa c'è prima, non ci mettiamo addosso uno zaino, un giaccone senza aver controllato cosa è rimasto lì sotto e soprattutto lasciamo a questi animali la possibilità di allontanarsi, facciamo un po' di rumore quando ci muoviamo. Le vipere non hanno nessun interesse a morderci. Vorrei chiudere con lo spirito di questa trasmissione che è dare quell'elemento di follia che purtroppo c'è sempre anche nel rapporto fra gli uomini e gli animali, anche in Italia. Le metto sul piatto due situazioni tipiche anche di Roma, della campagna romana, ma anche della città stessa, dei parchi urbani, la questione dei cinghiali e quella delle volpi. Quali sono i motivi della loro espansione e della loro confidenza che assumono sempre di più nei confronti delle persone? C'è stato uno switch, come si dice con un termine tecnico, cioè il loro comportamento è passato da animali che hanno paura dell'uomo a animali che hanno capito che l'uomo è un dispensatore di cibo. Una volta che hanno capito che l'uomo dà cibo, cinghiali e volpi, che sono animali estremamente adattabili e plastici, invadono i nostri spazi e noi non dobbiamo dare cibo, né involontariamente, né volontariamente. Volontariamente assolutamente no, c'è gente che porta le buste con il cibo per cinghiali e per volpi, questa è una cattiva abitudine perché poi si diffonde a macchia d'olio in tutto il territorio, ma anche involontariamente. Precludere l'accesso alle discariche, ai cassonetti, non lasciare rifiuti in giro, significa permettere a questi animali di fare una vita normale da animali selvatici e di non invadere i nostri spazi.